dire no è difficile sembra negativo suona spesso conservatore è un rifiuto a cambiare carlo cattaneo il filosofo di fine ottocento padre del risorgimento italiano aveva detto ciò che mi ripugna di più è l'agitazione sterile l'azione per l'azione in realtà il cambiamento non è positivo in se stesso anche un regresso è un cambiamento per esempio cambiare tanto per cambiare non vale la pena di farlo soprattutto se poi quando si è cambiato ci si rende conto che cambiare di nuovo magari per ritornare indietro o per cercare di coraggiare le magagne diventa difficile questa riforma quando il cano questo cambiamento questa riforma questo cambiamento in realtà a mio avviso è un regresso il senato è pasticciato le competenze sono mal definite si rischiano sovrapposizioni tra le due camere si rischiano delle dei profili di rappresentanza e di potere gestiti da questi due organi che non sono almeno ben definiti possiamo discutere a lungo però il fatto che questi organi possano esercitare un potere senza la necessaria autorità e la necessaria la necessaria legittimità in un certo senso è se non altro un punto problematico di questa nuova riforma in questo caso a mio avviso dire no imperativo perché questa riforma il suo intento vero viene tradito dalle parole stesse di questi riformatori costituenti di questi nostri padri di questi nuovi nostri nuovi padri costituenti infatti loro dicono che si vuole chiarezza su chi comanda chi vince e dopo lui è libero di governare senza lacci lacciuoli senza l'impiccio di un parlamento che ponga veti i controlli che magari sia un pochino più sovrano poi appunto il popolo voterà ogni cinque anni e deciderà che cosa è meglio per il suo destino se questa la democrazia che si vuole che è una democrazia a partecipazione limitata prego prego assolutamente io voglio qualcosa di diverso che si non è completo nella costituzione che ci stiamo trascinando dietro la 48 che si ha bisogno di adeguamenti di migliorie però il problema è che questa riforma tradisce la non tradisce la costituzione ma non capisce il problema non capisce e non capendo il problema da la risposta sbagliata non è l'architettura istituzionale oggi il problema principale ma il modo in cui si fa politica è il modo in cui si porta avanti una democrazia faticosa costruita ogni giorno dove i partiti contano e quanto i voti che prendono in cui ci si prende il tempo per riflettere per portare avanti una dirigenza del paese che si assaggia equilibrata riflessiva lenta lo so sono temi faticosi però il problema è che se si continua a rincorrere la velocità con cui i mercati finanziari adeguano il loro rating si finisce forse per andare a sbattere